Questa guerra non piazza anche a me, ma noi dobbiamo farla. Dobbiamo farla perché ci hanno chiamati e perché abbiamo un dovere verso il nostro paese, va bene? Osservavo il fronte su cui combattiamo. È più lungo di quanto immaginavo, più di 700 chilometri. Tu sei figlio unico, dovrebbero capire. Ma basta tranquillo, io tornerò. Muori!